in questo video vi parlerò dei laghi come base di riferimento utilizzo sempre il wiki books scienze della terra per le superiori e allora proviamo a definire cos'è un lago abbastanza semplice è una depressione riempita d'acqua quindi una depressione del terreno riempita d'acqua in genere è permanente in genere è abbastanza grande relativamente grande altrimenti bisogna parlare di stagno si danno altri nomi questo è un lago in canada e in genere sono formati dei fiumi che quando incontrano delle depressioni delle cavità vanno ad accumularsi e formare e quindi vanno a formare i laghi si parla di immissario quando il fiume entra in un lago ed emissario quando esce però molti laghi sono anche alimentati dalle falde acquifere o magari sia dal fiume sia dalle falde acquifere altri laghi sono ricevono acqua dai mari e dagli oceani il lago in genere soprattutto se alimentato da un corso d'acqua è destinato a scomparire diventando palude e poi diventando una pianura alluvionale questo perché il fiume vi deposita in continuazione detriti al suo interno e poi un certo punto comincia a crescere la vegetazione che va a riempire comunque lo specchio d'acqua se lo specchio d'acqua la raccolta d'acqua è relativamente piccola si parla di stagno un lago può diventare durante il suo interramento una zona umida oppure il lago può far può far parte di una zona umida perché la presenza di acqua in genere fa sì che la presenza di flora e fauna sia particolarmente ricca e interessante vediamo qualche esempio di lago per esempio questo è il mar caspio viene definito mare però è in realtà un lago è il più grande lago del mondo un lago di origine tettonica perché in un certo senso è quello che rimane della tetide un antico mare presente nella zona europea ecco questa è una raccolta d'acqua piccola per cui non si può definire lago ma piuttosto uno stagno anche lo stagno nel tempo tende a essere interrato durante la fase di interramento si può parlare di palude quando diciamo ci sono zone acquitrinose piccoli stagni vegetazione interamenti quindi c'è questa fase intermedia in cui il lago viene riempito in cui diciamo si forma una palude ecco nella fase di interramento del lago verso la fine diciamo cominciano a crescere anche dei muschi sopra lo specchio d'acqua sono muschi particolari che vivono proprio in queste zone ricche d'acqua si chiamano spagni e quindi lo spagno contribuisce a interrare in qualche modo a completare l'interramento del lago o meglio dell'acquitrinio della palude perché diciamo a questo punto non si parla più di lago ecco questo è un'immagine grandita di uno sfagno qui ci sono anche delle piante carnivore perché spesso in queste torbiere crescono piante carnivore perché c'è una certa carenza di azoto ecco le torbiere vengono tuttora sfruttate e sono state sfruttate in passato per ricavare la torba con la torba si possono la torba si può utilizzare come combustibile in passato soprattutto adesso viene utilizzata soprattutto per formare terriccio per per coltivare piante piante ornamentali soprattutto ecco quindi abbiamo visto un po che cos'è un lago abbiamo visto che si forma soprattutto da dai corsi d'acqua dai fiumi ma può essere anche alimentato dalle falde acquifere abbiamo visto che nel corso diciamo del tempo il lago tende a essere interrato sia per i detriti che portano i fiumi sia per la vegetazione che un po' alla volta va a occupare lo specchio d'acqua e ora vediamo le varie tipologie di lago perché i laghi possono si possono originare in vari modi allora abbiamo laghi di origine glaciale si formano nelle cavità nelle depressioni prodotte dall'erosione dei ghiacciai poi abbiamo laghi vulcanici in genere si trovano all'interno proprio dei crateri dei vulcani spenti di origine tettonica vuol dire che in qualche modo le placche le placche terrestri nel loro col loro movimento possono creare delle fratture delle depressioni all'interno della quale si possono formare dei laghi laghi di sbarramento perché a volte ci sono possono accadere delle frane che vanno a bloccare i corsi d'acqua e la frana diciamo fa sì che l'acqua del fiume non riesce più a passare formando un lago tra i laghi di sbarramento potremmo anche inserire le dighe artificiali quindi saranno laghi artificiali causate diciamo dalle dighe poi abbiamo i laghi costieri che derivano da lagune che progressivamente viene chiusa dalle lingue di terra e quindi l'acqua di questi laghi può essere dolce salata o salmastra misto di salata e dolce e come abbiamo visto prima poi oltre ai laghi ci sono le zone umide ci sono gli acquitrini ci sono gli stagni che fanno parte un po' della fase di interramento del lago le zone umide sono importanti anche se in passato sono state diciamo in buona parte bonificate sia per poterle coltivare sia per il problema della malaria delle zanzare della malaria vediamo qualche esempio ecco questa è una carta che mostra mostra l'estensione dell'ultima glaciazione questa linea viola la glaciazione la vurmiana e che interessava tutte le alpi quindi c'erano diverse lingue glaciali che scendevano dalle alpi verso la pianura padana e queste lingue hanno scavato dei solchi che adesso sono occupate dai laghi eccole qua quindi tutti i laghi i principali laghi del nord italia quindi lago maggiore lago di como lago di seo lago di garda sono tutti i laghi di origine glaciale quindi dobbiamo immaginare che sopra questi su dove c'erano dove c'erano questi laghi una volta c'erano delle lingue glaciali che scendevano verso la pianura questo è il lago di garda visto da satellite ecco qua se guardiamo bene questa foto si vedono anche i sedimenti morenici qui nella zona sud che formano l'anfiteatro morenico le morene sono i sedimenti glaciali e queste morene in qualche modo hanno sbarrato il in parte almeno hanno sbarrato il proseguo dei corsi d'acqua verso sud determinando quindi la formazione del lago che comunque si è formato anche perché la lingua glaciale ha scavato un solco abbastanza profondo quindi sia per la depressione sia per questo sbarramento formato dalle morene si è formato il lago di garda ecco questi sono questo è il lago di como visto da satellite eccolo qua con i due rami questi sono i grandi laghi la regione dei grandi laghi tra usa e canada e questa è una regione che ha questi laghi hanno un origine glaciale quindi abbiamo il lago michigan per esempio questo qui e perché nell'ultima glaciazione qui c'era un grande ghiacciaio questa è una foto del lago maggiore quindi di origine glaciale ecco questi invece sono laghi vulcanici italiani lago di bracciano e lago di vico si vede molto bene la forma circolare tipica diciamo dei crateri vulcanici anche se ormai l'edificio vulcanico non si vede più si vede poco è stato eroso però resta un po l'impronta circolare questo è un vulcano del costa ricca di razzù un vulcano non particolarmente famoso però ha questo lago al suo interno non c'è molta vegetazione vuol dire che è un vulcano adesso non so se è spento se è quiescente fatto sta che possiede un lago al suo interno qui siamo in indonesia anche qui c'è un bel lago di colore azzurro all'interno di questo vulcano che è l'imutu un altro tipo di lago sono quelli di sbarramento dovuti a frane questo lago di alleghe qui la frana è avvenuta circa 300 anni fa e diciamo sia memoria storica di questa frana perché ha fatto anche dei morti c'era la repubblica di venezia che ha provato anche vedere se riusciva a far ripartire il fiume quindi evitare la formazione del lago però i costi erano proibitivi per cui alla fine hanno lasciato che si formasse un lago anche questo è un lago famoso siamo nel montana negli stati uniti si chiama quake lake sarebbe letteralmente lago della scossa lago del terremoto perché si è formato negli anni 60 70 in seguito a un terremoto che ha sbarrato il corso del fiume e ha formato un lago i laghi africani quelli diciamo nella zona la zona est come il tanganica malawi tanganica e altri piccoli laghi sono laghi di origine tettonica perché questa è la zona est dell'africa compreso il corno diciamo si ipotizza che si stia un po staccando per cui si formano delle depressioni una rift valley che è in parte occupata da questi laghi questo è il lago malawi visto da satellite vedete la forma allungata ricorda che siamo lungo la rift valley in una depressione di origine tettonica questo invece è un altro lago di sbarramento lago di santa croce siamo siamo tornati in veneto questa è una diga che mostra un lago di sbarramento però artificiale questa volta quindi di origine umana questo è un lago costiero siamo vicini a lucca per cui si tratta di una laguna che in qualche modo è stata chiusa per cui se fosse forma un lago di acqua salmastra ecco un lago particolare che poi se di modesti dimensioni non viene neanche definito lago comunque sono le anse dei fiumi i meandri dei fiumi che vengono tagliati nel corso della vita diciamo del fiume per cui diciamo si formano questi piccoli laghi a forma di ferro di cavallo che poi rapidamente vengono interrati rivediamo alcuni esempi con google earth per esempio questo è il lago di alleghe e si vede bene si vede bene la zona della frana anche se sono passati circa 300 anni è abbastanza visibile lo specchio della frana che è caduto diciamo sopra qui c'erano c'erano alcune case quindi ci sono stati alcuni morti e e quindi si è formato la il lago altro esempio ecco qui torniamo nel montana stati uniti l'earthquake lake oppure quake lake più brevemente un lago sempre di origine di frana qui la frana è stata abbastanza recente come conseguenza di un terremoto questa qui e siamo negli anni 60 70 anche qui ci sono stati dei morti e si vede ancora il materiale franato ancora privo di vegetazione perché recente e quindi si è formato questa la frana e quindi si è formato poi un lago anche abbastanza grande earthquake lake nel montana poi andiamo nella pianura amazzonica qui se zoomiamo su qualche rio secondario si vedono bene i piccoli laghi diciamo di origine di meandro praticamente sono meandri tagliati via se ingrandiamo troviamo tutti i meandri morti meandri tagliati che formano dei laghetti magari quelli più piccoli sono più che altro stagni comunque possono essere anche abbastanza grandi per cui diciamo si possono definire laica con questo abbastanza è bello abbastanza grande e se osserviamo a compottuta la pianura costellata da meandri e meandri tagliati meandri morti quindi da laghi che hanno una forma a ferro di cavallo poi ecco se andiamo sempre con google earth andiamo a vedere la regione della rift valley in africa vedete che si osservano una serie di laghi di forma allungata quindi laghi in questo caso di origine tettonica la rift valley in realtà ha una biforcazione per cui ha una forma un po' y e comunque insomma si vedono bene questi laghi di origine tettonica come pure di origine tettonica è il marcaspio eccolo qua che è un po' quello che rimane dell'antica tetide la tetide era un mare che si era formato dopo lo smembramento della Pangea e anche un altro lago famoso di origine tettonica è il lago Baikal che è questo qui e siamo in Russia se vado a vedere invece sopra la catena imalaiana vedrò una miriade di laghi di origine glaciale perché qua nell'ultima glaciazione tutto era ricoperto da ghiacciai per cui adesso ci sono tantissimi laghi di origine glaciale magari alcuni saranno anche di origine di frana o ci sarà anche qualche diga però la maggior parte è di origine glaciale ma crescere ma di professori ma sia difficile ma 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 quantity Grazie a tutti